Convalidati gli arresti ma senza reclusione in carcere. Il Tribunale di Pesaro ha disposto ieri la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i due giovani marocchini, protagonisti venerdì scorso di un clamoroso inseguimento da parte della polizia terminato con lo speronamento della volante nei confronti della Fort Puma dei Fuggiaschi in Largo Aldomoro. Per Abder Leguris, 23enne domiciliato a Milano, scattano dunque gli arresti domiciliari a casa dei genitori che abitano nella provincia di Pesaro Urbino. Il giovane marocchino ha ammesso il suo ruolo di corriere della droga nella circostanza provando ad ammorbidire la testimonianza dicendo come quella fosse la sua prima esperienza in questa tipologia criminale. Dopo lo speronamento Leguris tentò di scappare a piedi con una borsa contenente 5 kg di hashish ma venne placcato dall'intervento del 32enne Gianalberto Colini Mocchi Zamperoli che in quel momento stava frequentando il vicino locale Zanzibar. Arresti domiciliari anche per Khalil Oda, 25enne originario di Valdobbiadene, che sconterà i domiciliari nel Trevigiano dopo che davanti al giudice ha negato ogni responsabilità testimoniando di non essere a conoscenza della presenza dei 5 kg di stupefacente a bordo della Fort Puma. Circostanza confermata dal compagno che avrebbe spiegato alla ragazza della droga soltanto a fuga iniziata.